Su Eminenza, quest'oggi il Teramo Calcio è stato ricevuto qui in Curria per una benedizione e soprattutto per un augurio. Ecco che augurio si sente di fare la squadra del Teramo Calcio. Quanto è importante una squadra per una città e per la città di Teramo? Ma è importante perché è una via di aggregazione. Non dobbiamo dimenticare che l'attività agonistica non è soltanto fine a se stessa, ma anche il segno di una comunità che in qualche modo si riconosce e che si sente stimolata a raggiungere i traguardi. Per questo è importante che coloro che operano nello sport, sia i dirigenti come gli atleti, siano consapevoli di questa responsabilità. Perché molte volte si crea una frattura tra le attese delle comunità e il comportamento e le sete anche gli obiettivi o di una società o di singoli atleti. Per cui scoprire questo senso di responsabilità e di servizio, potremmo dire. Anche se qualche volta potrebbe sembrare strano perché sappiamo come, non so, adesso a livello di serie, sì però gli atleti molte volte hanno stipendi. Però con questo non deve spaventarsi più di tanto. Ciò che deve invece preoccuparsi è quando invece il servizio, che sia pure retribuito e vissuto in maniera fine a se stesso. Dunque la ricerca che è successo per il successo, questo poi alla fine crea tensioni anche nella vita della comunità e perde lo sport, perde il suo ruolo. Per cui anche io sono molto contento di avermi incontrati, ma soprattutto di aver visto questa disponibilità a preghe e consapevolezza che quando si è in campo si è visti da tutti. Dunque se abbiamo una responsabilità sempre pubblica, che forse in passaggio un po' meno, ma oggi con i mezzi della comunicazione credo che diventa una scelta e una responsabilità sempre più grande perché i ragazzi imitano i loro coetanei e soprattutto i loro idoli. Se un giocatore diventa un idolo perché riesce nella vita, nel loro sport, e questo diventa importante i loro comportamenti che possono determinare l'esercito dei ragazzi. Questa è una squadra giovane, ieri tra l'altro ha iniziato il campionato non nel migliore dei modi, una sconfitta beffarda, un po' sfortunata, però una squadra giovane, giovane significa futuro, speranza. Sì, credo che anche in questi momenti di sconfitta aiutino anche come esperienza di vita, perché anche questi momenti, anche per ripartire a capo, di rimotivarsi, credo che non bisogna spaventarsi, esattamente bisogna raggiungere gli obiettivi, questo è vero, però anche in momenti di difficoltà, anche una partenza non brillante, può essere anche un'occasione per rimotivarsi e soprattutto aiutare i ragazzi a capire chi si può sapere ripartire. Per questo lo sport ha in sé dei valori molto importanti per la vita, una società, una comunità che non fa sport, l'ho visto anche nel mondo universitario, anche negli segni non c'è molta attenzione alla vita dello sport, per cui si sente la mancanza di quel dinamismo, di stare insieme, molti si isolano e penso che risolve il problema così, invece lo sport è un ottimo momento di aggregazione. Visto che l'hanno omaggiata con una maglia. Sì, è un gesto anche di condivisione, non in giussacra, però per dire che davvero non sono soli per ciò che può fare la Chiesa, il Vesco e i sacerdoti, ma vogliamo essere vicini ai giovani, perché sono loro che sono il futuro della nostra società.